E' importante che ucraini e americani siano davvero vincitori nella nostra difesa della vita normale e della libertà delle persone. Così il presidente ucraino Volodymyr Zelensky su suoi canali social a margine dell'incontro con una delegazione del senato statunitense a Kiev. Il senatore Lindsey Graham ha inoltre definito brillante e audace l'incursione dell'Ucraina nella regione russa di Kursk. Lunedì il governatore della regione russa di Kursk ha dichiarato che l'Ucraina controlla ora 28 insediamenti.